Salve a tutti, buongiorno, siamo qui a Bologna, siamo all'interno di Bologna Fiere, sono in compagnia del nostro amico ormai, possiamo definirlo così, Donato Pantelli, responsabile di contatto espositori e abbiamo appena definito gli accordi per la nostra prossima presenza con il Vegan Fest e con tutti i nostri espositori vegan all'interno di Sana, che vi ricordo si svolgerà quest'anno nell'edizione 2015, sempre a settembre, dal 12, sabato 12 settembre a martedì, tutto martedì, 15 settembre. Quindi vi aspettiamo tutti a Bologna a settembre e ovviamente ci saranno tantissimi prodotti importanti e novità nel biologico e nel vegano. Grazie, ciao a tutti! Vi aspettiamo tutti a Sana 2015, 12, 13, 14, 15 settembre. Grazie, grazie! Facciamo il Vegan Fest! Vai! Adesso andiamo a dare un'occhiata al Padiglione. Parliamo! Siamo a Bologna Fiere e all'interno del Padiglione che ospiterà il Vegan Fest. Avete mai visto un Padiglione deserto, quasi buio, misterioso? Seguitemi! Ecco, siamo all'interno del Padiglione 34, al primo piano, dove ogni anno si svolge il Vegan Fest. Ci stiamo avvicinando pian piano in questo spazio che potrete vedere nudo per la prima volta, immenso e qui stiamo valutando la prossima scenografia di quello che sarà il Vegan Fest che si svolgerà appunto qui, il 12, il 13, il 14 e il 15 di settembre. Questa è l'area nuda, potete vedere, è grandissima! Ecco, adesso dobbiamo cominciare a pensare a come riempirla. Go Vegan! Grazie a tutti!